ciao a tutti amici benvenuti su questo nuovo video siamo qui per continuare la nostra avventura come il cenario in cui in questa partita troverò ad avere una moglie e intanto ad ammazzare un po di stronzi perché è arrivato il momento no? allora un attacco, fare attivo, se no anch'io arco e poi pensavo di stare registrando perché avevo fatto un torneo prima in cui ho vinto un oggetto o non so che cosa non mi ricordo non mi sono scordato è una protezione per il corpo una sorta di spangliera per il corpo non lo so non lo so spiegare bene però diciamo che ho scoperto di non stare registrando ho detto cazzo ma devo registrare assolutamente grazie Die! To hell with you! Okay. You! You've got... Come on! Come on! Come on! Man it! Come on! Come on! I'm disorganized! I have attacked someone! No! I can't do it! I can't do it! You have the pigiants! I can't do it! 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 You can't do it! I can't do it! Okay. Allora... Distretto! Li tengo solo questi due! ma che forgia sempre salviamo no stavolta deve forza salvare trade questo non si può usare sul cavallo venditi tutto il cazzo vendi tutto oddio even from home sotto assedio cosa? no questa è da fa faccio questo e ci fermiamo perché assediano even from home è ottimo però a te ti voglio ammazzare e chi si? dai su sei morti va bene una minuta siete già in battaglia? no oh oh tu? che fai? che fai? no bene bene nato è andato scout in me 75 facciamo come ste king adesso do un bug prenditi ciao 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 Così, ok I miei vengono sempre a pigliare, oh bambino Oggi ho provato a fare una cosa Scusami Se riesco a prendere qualcuno l'acqua No, no, non prendo nessuno Bambino La Apelle Unicum 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 Oh 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 Kenmashire Oh 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 oi manda il cazzo voi adesso tutto perso bene ok effetto questo è ottimo il fatto è ottimo 0.1 0.1 un cano a 21 scherzi pesce 89 ormai un even perfetto figli adulti oi 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 bene che culo enorme e il primo step è andato lo salviamo oi 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 addio 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 e addio Oh no, la macchina 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 Ciao ragazzi Oh no, la macchina Oh no, la macchina